Gli artificiali del comando provinciale di Torino sono intervenuti per un presunto ordinio rinvenuto da passanti in una siepe di via Cena, angolo via Cuneo, vicino a un parcheggio a Settimo Torinese. L'area è stata transennata dai militari dalla locale tenenza dei carabinieri. Gli artificiali dei carabinieri giunti sul posto hanno operato sul luogo di ritrovamento del presunto ordinio, che sembrava essere dotato di un timer. Il protocollo di sicurezza impone l'uso del cannoncino a distanza prima di avvicinarsi al manufatto. Contemporaneamente due cani anti-esplosivi del nucleo carabinieri cinofoli hanno effettuato le dovute bonifiche dell'intera area. Gli artificiali dei carabinieri hanno sparato il cannoncino ed è risultato negativo. Parla infatti che si tratta di un ordigno finito. Infatti si procede ora con la bonifica. Grazie a tutti.